Nuovo sollecito dell'amministrazione comunale di Ponte Cagnano-Faiano a rete ferroviaria italiana affinché provveda ad effettuare un controllo al sistema di apertura e chiusura del passaggio a livello di via Milano. Il documento, che fa seguito alla diffida della Polizia Locale dello scorso 30 agosto, fa riferimento alle problematiche più volte segnalate dai residenti e che sono relative ai numerosi malfunzionamenti delle barriere in questione. Spiace constatare, si legge nella lettera, che RFI, pur sollecitata circa l'allarme diffuso fra la popolazione, non ha ancora provveduto a rimuovere le cause del cattivo funzionamento delle sbarre.